Che fai? Tiene privi di far vedere la maglietta nuova regalata dalla propria ragazza? Ma soprattutto, quanto cavolo sono belli i pantaloni di casa con bucati, bellissimi, bellissimi Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Waze e ben ritornati qui in questo nuovissimo episodio di FIFA 21 Mobile Ragazzuoli, volevo farvi gli auguri di un buon Natale in ritardo, anche se comunque l'avrei dovuto fare ieri Perché dovevo far uscire il video ieri, ma non ci sono riuscito, perché non è che non ci sono riuscito Ho fatto un pensiero, ho fatto, ma chi cavolo è che deve vedere i video su YouTube durante il Natale? Cioè, porco schifo, ho detto, ma lo facciamo direttamente domani il video e facciamo gli auguri in ritardo Scusandoci, ovviamente ragazzi, però vi faccio un augurio di buongiorgiorno di Santo Stefano Non so se si fanno gli auguri per questo giorno, comunque, eh, eh, va bene Dato ciò ragazzi, mi raccomando, sapremo un mille mi piace per vedere domani un nuovissimo episodio qui su questo canale Iscrivetevi, attivate la campanellina e cliccate su tutte per non perdere nessun video E che dirvi ragazzi, buona visione! Ok ragazzuoli, ben ritornati qui sulla schermata del mio computer Vi faccio vedere sin da subito le offerte che ci sono adesso Perché se sono appena aggiornate, ah, è comunque per vostra informazione, sto registrando ancora alle 3 di notte Non so ragazzi, ormai mi sono prefissato, mi sono fissato con queste 3 di notte Però mi va bene così, mi va bene così Quindi ripeto, se ci saranno altri errori come Keita, CDC e tantissime altre cose Sapete benissimo il motivo, sono le 3 di notte Perché registro le 3 di notte? Perché con le feste io sono abbastanza notturno come ragazzo E quindi tendo ad andare a dormire verso le 5, le 6 del mattino Lo so, ho i problemi miei Però mi piace tantissimo lavorare, giocare e fare tutto quanto di notte Perché mi rende molto più, diciamo, tranquillo Non c'è nessun in giro per casa e posso fare ciò che cavolo voglio E niente, andiamo a vedere sin da subito che regali ghiacciati ci sono Magari riesco a far vedere un paio di cosette Allora no, non è uscito praticamente niente È solo che ci sono, ah buoni, buoni, buoni Ci sono un bel po' di XP che sinceramente voglio andare a prendere nei pacchetti Nei regali, scusatemi, diciamo gialli Che sono veramente in tanti Allora, il primo consiglio che vi posso dare Ed è proprio ciò che sto andando a fare È di ovviamente andare a prendere pacchetti Che contengono le caramelle ghiacciate Non so come si chiamano adesso, le candy Vabbè, le caramelle ghiacciate I bastoncini ghiacciati, ragazzi Ed andare ovviamente a prendere i pupazzi di neve Con i bastoncini, ragazzi Questi qua, ecco, con i bastoncini di zucchero Ovviamente vi consiglio di andare a fare sempre il cambio Per farvi capire, l'ho fatto per 30 volte qua Prendendo i gettoni gradi comuni E ora che è terminato Devo scegliere tra monete, potenziamenti e XP E ovviamente vado con l'XP, ragazzi Ed è una cosa che consiglio anche a voi Quindi cosa consiglio di ritirare con questi pacchetti regalo ghiacciati Allora, per farvi un esempio Io, quando capita, quando ci sono queste offerte qua Abbastanza belle Per quanto riguarda l'XP allenamento Io le prendo Ma le prendo solamente per quanto riguarda i regali gialli Ok? Regali rossi assolutissimamente non li tocco Perché da questi regali rossi Io ho preso Mascherano, credo Credo che era Mascherano Aspetta un secondo, fatemi vedere Mi sa che ho preso il CDC Mascherano Se non vado a rato Che l'ho già inserito nella prossima squadra Sì, ho preso questo giocatore, ragazzi Che è un CDC con mastino E ha delle stats veramente, veramente Fortissime Fortissime, scusatemi Veramente molto, molto forte Se vi ricapita e avete 200 pacchetti regalo rossi Da utilizzare E sapete che vi serviranno i CDC Vi consiglio di prenderlo Non adesso, magari perché non capiterà Anche se fino ad ora Che sto registrando La notte tra il 25 e il 26 Non è ancora uscito Mascherano per la seconda volta E non mi sono perso nemmeno un regalo Forse un paio di regali me li sono persi durante la notte Che non riuscivo a svegliarmi Perché li sto mettendo alla sveglia ogni ora, ragazzi Per non perdermi Assolutissimamente niente Vi lascio immaginare Le mie palle che sono arrivato a terra Per questi eventi inutri Che dico io È un giorno festivo FIFA, perché metti l'aggiornamento dei pacchetti ogni ora Che la gente poi non può dormire di notte Mannaggia la pupazza, mannaggia Però vabbè, che ci devo fare? Io ci lavoro con FIFA Quindi lo devo fare per forza, ragazzi Non è un problema che per due giorni mi rovino il sonno Però l'importante è riuscire a prendere tutto quanto Quindi, mi raccomando Quei nei pacchetti rossi Se vi serve un CDC C'è Mascherano Che è veramente una bestia Con mastino Costa 200 pacchetti rossi Io per esempio adesso ne ho 90 E me li sto tenendo da parte Anche perché, ripeto Qui potete vedere tutto ciò Che potete trovare, ragazzi Infatti c'è Mascherano 90 Ci sono l'XP Anche se ve lo sconsiglio E poi ci sono i pupazzi di neve Quindi vi consiglio di prendere Mascherano Se vi serve Se vi serve Oppure i pupazzi di neve Il resto non ve lo sconsiglio Forse magari i punti premium Tot vi potrebbe interessare Qualcosina Ma nemmeno Io per farvi capire Non ho preso nient'altro Che Mascherano E i pupazzi di neve Il restante poi lo utilizzerò Per altre cose in futuro Verso gli ultimi giorni E tante belle cose Regali Ovviamente Viola Cosa vi consiglio di andare a prendere Nei regali Viola Ci sono un bel po' di giocatori E c'è un certo Gattuso, ragazzi Un certo Gattuso Voglio soffermarmi un po', ragazzi Su questo Gattuso Perché pur avendo intercettazioni Come potenziamento E mannaggia la pupazza Che non l'hanno fatto con Mastino Ha veramente delle stats spettacolari, ragazzi Ha 112 di intercettazioni E io intercettazioni Ce l'ho a livello 4 come potenziamento 107 di marcatura 109 di scivolata Ha 102 di forza Ha 110 di aggressività, ragazzi E' una santissima bestia E' un'icona Fa intesa con tutti Ragazzi Mi sa proprio che lo prenderò Mi sa proprio che lo prenderò Il problema è che per prendere lui Che costa 50 pacchetti regalo Viola Non potrò andarmi a prendere I 250 pupazzi di neve Mannaggia la pupazza Quindi devo decidere un po' cosa fare O mi prendo Gattuso O mi prendo solamente i pupazzi di neve Ok? Anche se comunque i pupazzi di neve Non escono sempre Quindi mi sa che per quanto riguarda Cappodanno Mi prenderò Gattuso E lo inserirò come secondo CDC nella squadra E venderò Vagnama Perché adesso Vagnama Quindi mi raccomando Se volete fare la mia stessissima cosa Cercate di fare tutto ciò E per chi mi chiede Come fai ad avere tutti questi pacchetti regali Gli sto prendendo delle offerte monete Sto sprecando tantissimi crediti Perché sono sceso di veramente tanto Però serve perché Alla fine poi andrete a ricavare tantissimo Dal giocatore che sbloccherete da questo evento Che poi potrete tranquillamente vendere Poi invece per quanto riguarda l'evento Cioè i pacchetti questi qua Che sono quelli Non lo so Che pacchetti sono questi qua Regali bonus Ecco regali bonus Ci sono un bel po' di varianti Infatti vi consiglio di tenervi da parte E prendere solamente i bastoncini I punti e i punti pupazzi di neve Ovviamente per prendere queste cose qua Entrambe avete bisogno di tantissimi Tantissimi regali bonus Come li fate? Li fate ovviamente prendendo l'XP Ragazzi ripeto Prendendo l'XP Come sto facendo io Perché adesso io sto prendendo 25 regali bonus Per ogni regalo che sto acquistando qua Ragazzi per farvi capire E voi direte Sì Ace ma stai scendendo un po' troppo di regali gialli Non è un problema Perché con l'energia poi Li fate easy Perché per farvi un esempio Se andiamo su Notte Stellata Qua nel regalo Anzi tocciamo qua Nel regalo Se noi facciamo 9 stelle Ci danno dai 4 ai 6 regali oro Quindi veramente Tanta tanta roba Cioè sono veramente tanti ragazzi Ogni volta Sono veramente tanti Poi qui Ogni volta che vincete Danno potenziamenti 2 regali oro Per farvi capire E 2000 monete Quindi i regali oro Non mancano mai Poi se proprio vogliamo mettere I puntini su Io ho pure il dito nella piaga Qui Qui Prendendo questi pacchetti Ci danno dai 9 ai 45 Pacchetti oro Quindi che cosa vuol dire A fare Cercate di utilizzare Il più possibile I regali oro Però tenetevi sempre 200 punti da parte Perché se no poi Potreste rischiare Un bel po' di cosette Poi cos'altro vi devo dire Cos'altro vi devo dire Mi sa che io vi ho detto Già tutto Perché volevo proprio Soffermarmi su questa cosa qua Ah ed è inutile dirvi Che in questo evento qua Mi sbloccherò al 100% Vardi Ma dato che E ripeto Dato che Hanno detto Che sarà Free to play Blank Ragazzi Blank 93 con Capitano Ovviamente E ripeto Ovviamente Con queste statistiche Io me lo sbloccherò E me lo inserirò In squadra Ragazzi Quindi oltre a prendere Blank Cercherò di prendere Vardi Tranquillamente Anche se hanno detto Che anche Ronaldo È free to play Però se Ronaldo È free to play Dubito che riesco a farmi Vardi e Ronaldo Quindi forse O mi faccio Ronaldo Poi lo vendo E poi mi faccio Vardi Oppure mi faccio direttamente Vardi E gli altri punti Li utilizzo Per altre cose Che non so Per altri giocatori Che magari potranno aumentare di prezzo Successivamente Tantissime altre cose Quindi Volevo dirvi questo qua Ok ragazzoli Ora sono riuscito a trovare Velocemente Per quanto riguarda il percorso Per quanto riguarda i nodi Del fiocco di neve E questa volta Questa settimana Vi consiglio di fare Questo qua Mi raccomando Perché Vi fa fare Tutti quanti Tutte quante le caramelli Bastoncini Ragazzi ghiacciati Che è ciò Che serve a noi Dal fiocco di neve Poi Ovviamente Si faranno Tantissimi altri punti Perché Per richiede Solamente 4945 punti Ragazzi Che vi consiglio Di prenderli ogni giorno Perché ogni giorno Prendo il regalo Vi danno i punti Mi raccomando Ghiacciati Quindi per fare Questo percorso qua Richiede solamente 4945 punti Ghiacciati Ok Poi con gli altri Restanti punti Vi consiglio Di terminarlo Tutto Perché secondo me Perché si fanno Circa il massimo 8000 E qualche cosa Punti E quindi mi sa Che riuscite Tranquillamente A terminare Tutto quanto Il fiocco Ok Tutto quanto Il fiocco Quindi mi raccomando Vedete un po' Dove arrivate Vi consiglio di fare In primis questo E poi fate il resto Perché qua Facendo questo percorso qua Ci danno 295 Bastoncini Che non sono Tantissimi Però Non fanno Assolutissimamente Schifo Detto ciò ragazzuoli Spero che il video Vi sia piaciuto Spero di avervi detto Tutto quanto E spero di non avermi Dimenticato Di essermi Scusatemi Dimenticato Niente E che dire Mi raccomando Superarmi 1000 mi piace Per vedere domani Un altro bellissimo video Per quanto riguarda Questo bellissimo gioco Iscrivete Attevate la campanellina E seguitemi nei social Che trovate qui sotto In descrizione Che ci sono Gruppo Facebook Per quanto riguarda FIFA Telegram Per quanto riguarda Il mio canale Instagram Dove cercherò Di pubblicare Il più possibile In questi giorni E niente Iscrivete al canale E cliccate su tutte Nella campanellina Perché vi arriveranno Tutte quante Le notifiche Detto ciò ragazzi Fatemi andare Fatti i bravi Fatti i buoni Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao